e benvenuti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video io sono quarep e oggi siamo su roblox parkour il vostro preferito io sono qua che mi mangio un ciupa ecco perché c'ho questa voce e sto risucchiando quindi beh sono piuttosto brava nei parkour ok laggava ecco primo fatto questo cos'ha che non va aiuto allora qua ci sono schiattata la seconda volta raga vi immaginate fare un salto fino a la e schippare il livello sarebbe bellissimo oddio serpentina che odio chi è che non la odia allora scusatemi per la voce se sentite male però c'ho il ciupa che non vabbè allora concentriamoci perché se qua cado io inizio a sclerare dai raga dai raga vi prego finiamo sto hobby prima o poi devo anche portare le bedwars veramente che c'è ma è la madonna sì sì buono il ciupa era pepsi al limone qua un'altra serpentina madonna questo non mi ha fatto tanto schierare perché c'ho il ciupa magico ok andiamo 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 ok qua ho rischiato madonna ho sputato dappertutto giuro allora tu cos'hai che non mi ha saltato aspettate che madonna sto cercando di ok dai raga ok e dopo di questo basta ok sì allora andiamo 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 ok qua ho rischiato oh no ste robe io le odio ok ci rivediamo in cima ok raga sono in cima e oh we are the champions allora andiamo si va sui viola sì oddio raga ok vediamo se riusciamo oh la magari un po' più così ok ci sta ecco perché non mi salta perché non mi salta voi sapete che a me non mi salta mai sarebbe più facile in una tastiera ma no devo giocare sul telefono ok ok era la tv ecco 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 mai farsi distrae e rivediamo dopo la tv sì sì raga sì raga sì raga tattica di stef ok ecco allora questo non è questo è il viola no infatti infatti ho detto punto di domanda perché raga 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 perché sono die io ho preso il check point no ma è buggato tutti l'hanno vista che ho preso il check point tutti eh preso preso adesso era il verde era il blu e dai oddio no oddio perché a me ok ok non è così difficile ho ciò che muoio adesso ok no era logico però io che so stupida ok allora qua non si deve toccare il rosso il rosso ed è abbastanza difficile ed è abbastanza difficile quando è che posso fare una bedwars ve lo dite vi prego voglio fare una bedwars vabbè cioè vi dico che il nuovo video uscirà chissà quando però sì queste sono io che sclero malamente però allora cuore stai calma stai calma non succede niente anche perché hai la miliardi di possibilità di continuare il livello quindi con calma con calma no 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 perché c'avevo no mi ho dito che problemi c'ho mi ho dito che problemi c'ho ok raga ok raga ecco ok raga ok 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 c'è il naso di it qua che è abbastanza abbastanza semplice farlo infatti io raga dovrei fare tutta sta roba manco se manco se è morta aspetta che facciamo così e baby shark ok adesso ci sono le serpentine no no raga io vi dico che non faccio il continuo di sta roba però eh allora stiamo calmi solo calmi la calma non la regalo a mia nipote manco se è morta da un cerbiotto di carote fatto di carote ecco ok comunque è il primo tentativo qua non sarà il primo tentativo e invece no e invece no signori questo cosa c'è cos'è c'è è stra facile oh no 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 raga perché mi dovete mettere stammer devo essere family friendly anche se la descrizione del mio canale dice di esserlo oddio ma proprio mi sta le costole sì sì raga allora cosa che 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 cos'è dove devo andare check point oh oh madò raga giuro che fra poco sclero vi dico arriviamo a 17 o barra 16 minuti e poi basta perché io veramente sclerare così tanto qua cosa c'è vabbè ho che 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 problemi ha quello che ha fatto sta mappa no questi non scompaiono per per l'amor di dio boom 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 balum e da qua però non ci arrivo e giustamente mi fanno robe alte due metri con una serpentina ok ok non è più ok dai dai raga possiamo fare skip level vi prego se no sto sto ferma altri quanti minuti raga vi giuro che non ho mai sclerato così tanto in vita mia oggi che c'ho il torneo di pallavolo sclererò ancora di più perché ci avrò dei compagni ok dai raga dai raga sc 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 cose ok ok madò che tremo no non dirmi che devo rifarmi no no raga ah ok perfetto ok 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 ecco quante stage ci sono di preciso sono al 26 però è tanto no cosa ho fatto la vita raga prima ho fatto la vita vabbè no no ok cos'è sta roba vabbè no cos'è qua vado di fortuna c'è c'è allora è sinistra 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 destra no ero sinistra cavolo allora sinistra destra sinistra 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 destra sinistra sinistra ho sentato addio raga guardate quell'uomo o guardate quell'uomo no non li ho manco visti non li ho manco visti quei robi brutti eccovi allora facciamo così proviamo ad andare in prima persona vai eh non funziona funziona ok raga ho paura ecco ecco perché ho paura oddio la mia testa il mio corpo non è è family friendly roblox eh lo dovrei lo dovrei dire dove mi sto arrampicando sono l'uomo ragno aspettate ecco ma perché non mi funziona sto salto di perché non mi funziona sto salto di con sto personaggio di roblox di è solo una ok raga mi sono sfogata perché veramente comunque ho tagliato le parti come avete potuto vedere vedere bene ragazzi io concludo qua l'episodio e alla prossima ciao ciao